L'amministrazione comunale di Nereto prosegue l'intervento di manutenzione sulla viabilità cittadina. Questa volta due vie importanti hanno avuto un intervento di grossa manutenzione. Sì, come diceva lei, abbiamo avviato questi interventi di manutenzione straordinaria sul nostro territorio. Manutenzione legata allo stato di criticità di alcuni comparti stradali. Le due vie oggetto di asfaltatura totale per l'intera lunghezza dei tracciati sono via De Berardinis, che è una via ammalorata da tantissimi anni, ai limiti della percorribilità, e via Dinoleli, una via proprio in centro storico, attigua a Piazza Cavorra. Come diceva lei, sono opere di manutenzione programmate dall'amministrazione comunale. Un avvio di un percorso virtuoso, io uso sempre questa espressione, non saranno gli ultimi interventi. Io ritengo che l'amministrazione comunale debba dotarsi di una programmazione seria e concreta per i prossimi mesi, per i prossimi anni, attraverso gli strumenti, che sono appunto gli strumenti finanziari, il piano delle opere pubbliche e i bilanci. Annuale, bilancio annuale e bilancio pluriennale. Io l'ho detto anche pubblicamente, attraverso dei post anche su Facebook, sui social, dobbiamo ricorrere a dei finanziamenti sovracomunali, ricorreremo a delle risorse di bilancio attraverso l'impiego del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative, ma laddove questo sia necessario, anche attraverso la contrazione di mutui, che non sono la panacea di tutti i mali, se servono per le scuole e per le infrastrutture. Ecco, quali saranno i prossimi interventi programmi? Ancora strade, ancora alcune vie che versano in condizioni, diciamo, come ho detto, ai limiti della percorribilità. Ci sono ulteriori vie che abbiamo in programma, un pezzo di via Leopardi, alcune strade bianche, e anche un'area in via del Neolitico, che è persa in una situazione di degrado assoluto, forse è l'unica area adibita a parcheggio, attivo a un parco pubblico, tra l'altro, che non è asfaltata.